Buongiorno a tutti i miei converted siamo dentro il hobotone oddio santissimo cos'è che sono? siamo sulla luna che roba canne dopo che stiamo con Manuel con Gustavo, Santiago, Maria, Francesco di Compostela e c'è un Valerio che arriverà non so qua nel fatto il boggio non si parta oddio ragazzi cos'è che ho fatto? sono salito dentro un mecha credo lo pilotiamo non mi sa il mecha oddio scori armi ah guarda guarda possiamo già sparare ma c'è il corpo singolo 2005 e poi va in overload oddio non so cosa sta succedendo però divertente qui mi dicono quanto tempo mezz'oretta circa quindi noi ci ragioniamo fra mezz'ora circa prima di ragionarti ragazzi ricordatevi che domani questo video qua lo faccio uscire la sera stessa grazie John uscire la sera stessa che l'evento domani esce la nuova stessa usate il codice cattore bricks negozio per sciopare il pass fatelo adesso perché sennò non lo fate più ricordatevi bravi 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 dai ci vediamo tra mezz'oretta è chiuso prepararsi al briefing della missione oi guardalo sentiamo è un problema a guidare la missione avremo il miglior capitano di mecha di tutte le realtà brics non so eccola eccola bella zia ciao ma si si come abbaraccia mi chiamano mi chiamano la legge ma basta ci siamo smerti preparazioni alla sequenza di lancio ecco ok mi sa che tu lo metterai dentro eh ho questo piccolo dubbio eh no ma è chiuso di guarda eh è un pochino uuuu 20 secondi raga uuuu 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 ceretetete è ultimamente è ultimamente fatto dire suiii che casino fa sto porpo ok giocheriamo ci stiamo sistemi d'armamento pronti dobbiamo aprirci un passaggio tra le rocce vediamo tutto quello che c'è stiamo arrivando storti sembra una mappa dell'intera piattista molto carino avvia la discella sandwich non sono chi è come idea non posso senza sì 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 no, non ci si si, si si, 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 non sarà un problema leggenda, dons leggenda si 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 ok mamma mia che bella ma quanti caromaggi sono? oh pochettava che arrivano a qualcosa oh eee 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 oh no ok eee 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 giustamente sbagliamolo contro un gold ok contro i nati eee aiaa vattene queste bombette ok vai vai è molto bello aha e mo vediamo eh eeeh non poteva usare la prima non poteva usare la prima ma vai con terra non c'è ma non mi arriva a te ora 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 mi sta venendo un mal d'orecchie e non è stato eliminato questa è la nostra chance piena potenza l'espadre oltre più già come dannati ragazzi e non è stato convinto è la johnson oh che famacchia no sono qua spara 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 luca oh ha subito un buco, esplodi dove li spavano? ooooh, bravo sarà la fine di tutto oh, che attimo vai, vai, vai su di lei che va uguale la mia vita bella polo di squadra ha fatto tutto lui bella polo di squadra 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 è un bambino non c'è niente più a dentro ok andiamo bella polo di squadra uoooooooh va bene, vai non c'è niente ma c'è una slow il solito mi lo trappato ma dov'è? sopra il carano non tocco da me ma no guarda dica ma mi sa che ha fatto una bella camota al bloc pensavo che forse vi serviva una mano bentornato benedigma grande edwayne eeeh chi sarebbe? il punto zero è concentrato su Geno ahia andiamo 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 ok ora tocca lì non abbiamo punto tempo vuoi cristalli? vuoi cristalli? vuoi cristalli? i cristalli? i cristalli? i stessi sopra ah ok attuaggono i cristalli il punto zero è qua d'incima siamo nei corvini l'ultimo l'ultimo in fondo uuuu ottimo direi grazie si sentirà un casino di gestazione che secondo me te l'hanno voluto ci penso io grazie mille che ci hai colletto dalla esplosione che ti ha voluto c'è no non puoi concludermi così mi fa il viare no vabbè ragazzotti continui dicendo un bel piace un commentino usate quel territorio domani mattina io ti metto a caricare il video così esce subito e come al solito ciao